Giovanna ci ha scritto, mi è stata diagnosticata una esofagite da reflusso di grado C, con piccola ernia iatale da scivolamento, i farmaci fanno poco, se non diarrea. Cosa posso fare? L'esofagite di grado C è un'esofagite impegnativa, è sicuramente diagnosticata attraverso un indame endoscopico, io spero, e sicuramente va trattata con i farmaci. I farmaci sono gli inibitori della pompa protonica, i quali possono creare dei effetti collaterali che sono anche la diarrea, vengono riferiti anche altri effetti collaterali, ma sono molto rari rispetto all'entità del beneficio che si danno. Sono l'unica arma che abbiamo a disposizione, soprattutto perché hanno un'emivita, cioè una lunghezza di azione piuttosto lunga. Io credo che il problema della diarrea sia un problema assolutamente saltuario e sicuramente non correlato alla entità delle esofagite che noi vediamo. Per cui io dico di continuare, eventualmente cambiare il tipo di inibitore della pompa protonica, eventualmente decidere di utilizzare una dieta che ci consente di evitare o ridurre quantomeno il refluso.